Ciao ragazzi, bentornati su Cose dell'altro cinema. Io questo video lo volevo fare. Cambio un po' la minestra, di solito si dice io questo video non lo volevo fare, invece no, io questo video lo volevo fare, ma non volevo vedere il film. Questa è stata una roba proprio... Quando ho visto che arrivava sta merda al cinema ho detto Mario, forza, questo è un video bellissimo da portare sul canale. Però poi proprio mi è passata la voce... Perché, allora, mi sembrava, guardando il trailer, mi sembrava che mancasse il punto. Lo so che devi guardare il film per capire se manca o non manca il punto un film, però, allora, l'ho vista così. Allora, perché 30 anni dopo dovresti rifare il Corvo? Perché magari è un'operazione nostalgia, riporti quei signorotti di mezza età al cinema a rivedere, no, questo cult della loro giovinezza. Eh no, a guardare questo, vestito da Achille Lauro, con questa estetica così, così Disney Plus? Ho detto, no. Cioè, a noi che è piaciuta l'atmosfera gotica, cupa, devastata del Corvo? Perché sta stronzata platinata, con questo stronzo con i capelli tagliati, ecco, come un trapper ci dovrebbe piacere a noi? E quindi, niente, ho scartato l'idea che il film fosse un modo di riportare noi al cinema, come magari sono riusciti a fare gli ultimi film dei Ghostbusters, era proprio, prima o poi ne parliamo, però, cioè, non mi sembrava, già dal trailer non mi sembrava un'operazione riuscita dal punto di vista dei nostalgici, no? E quindi l'unica roba plausibile per questo scempio qui è che l'abbiano fatto per tenere in piedi i diritti. Nel 2024 fanno pure questo, ci sono film fantasma che non esistono perché c'è un intento artistico dietro. Esistono perché, sennò, scadono dei diritti. Cioè, è come quei ristoranti che aprono in periferia, hanno 180 coperti, ma ci vanno a mangiare due persone al giorno e rimangono aperti per anni. È chiaro, non è il ristorante il vero motivo. Nelle cucine preparano la mat, si fa riciclaggio, però di sicuro il ristorante... Ecco, ci sono dei film che sono esattamente come quei ristoranti. Mo, a me dispiace perché sostanzialmente quando vedo un prodotto così mi rendo conto che quando qualcuno guarda i film come Il Corvo o Il Cult, li guarda e dice ah, questo è un cult, lo devo fare pure io. Senza farsi la domanda giusta. Cioè, ah, questo è un cult? Perché è un cult? Ora, nel caso del Corvo del 1994 c'è stata la morte di Brandon Lee a trainare, ma per anni, eh, questo film. Ma la verità è che riguardando il film dopo tanto tempo, una cosa che ho fatto, no? Perché a un certo punto mi sono fatto delle domande. Ho detto, Mario, ma questo film ti è piaciuto perché eri un ragazzino e perché c'era tutto sto gran parlare della morte di Brandon Lee oppure il film è valido? Il film è valido! Ci sono delle robe che non si possono vedere. Cioè, c'è un inseguimento di auto in questo film, nel Corvo del 1994, che sono semplicemente auto che vanno in giro. Davvero, ha una grammatica terrificante. Mamma, mi dispiace per Proyas che secondo me ci si è da pure impegnato, però quell'inseguimento di auto è una merda, tant'è che quando finisce fai grazie a Dio, ok? Ma, ma, di contro ci sono tanti belli accorgimenti. C'è una scrittura che oggi ce la sogniamo nei film action e c'è un'atmosfera. C'è una cifra stilistica in quel film che qui manca completamente. Quindi, andiamo a vedere. Non voglio fare una recensione del Corvo del 2024, non vuole essere una recensione. Voglio semplicemente spiegarvi dal mio punto di vista perché fa così cacare. Perché che fa cacare l'abbiamo capito. È la prima volta negli ultimi dieci anni che vedo internet così compatto. Di solito nel 2024 si litiga per qualsiasi cosa che ormai non sono più i grandi ideali sui quali si dibattono, ma pure sul semplice punto di vista. Sai, oh, ma da che parte rompi l'uovo? Dalla parte stretta o dalla parte larga? Discutiamo, litighiamo, tavole rotonde, live di 18 ore con 90 ospiti tutti. Questo è il 2024. Oh, per l'amor di Dio questo film è riuscito a compattare il web tutti a dire raga, che ne pensate? E in coro. È una merda! Perché? Come ha fatto il Corvo di Sanders a mettere d'accordo tutti? Partiamo con il dire che questo è un film che dura quasi due ore, sì, ma che non parte mai. È incredibile quanto cazzo questo film manchi completamente di ritmo. Mi riferisco al fatto che rispetto al film del 1994, quando tra l'altro l'attenzione degli spettatori era molto maggiore, cioè non c'era bisogno di fare le cose stile TikTok per catturare l'attenzione della gente, questo The Crow manca completamente di gancio. All'inizio gli manca un gancio. Come parte il film del 1994? Parte con il personaggio, con il protagonista Eric Draven che viene scagliato fuori da una finestra e si schianta a terra in una notte piovosa. Arriva la polizia e viene ricostruito il fattaccio e tramite dei brevissimi flash ci fanno capire che questi due ragazzi stavano a casa loro in una notte particolare, la notte del diavolo in cui tutti gli scalmanati della città fanno man bassa, rubano, stuprano, uccidono e subiscono un home invasion da parte di questi bastardissimi criminali che picchiano e violentano lei e buttano lui fuori dalla finestra. Quindi una scena abbastanza forte che viene raccontata con dei frammenti. La forza di questa scena non arriva tanto dal fatto che te la mostrino ma arriva da una ragazzina devastata perché ha perso questi suoi due amici questo ragazzo e questa ragazza violentata li ha persi in questa notte viene consolata da un poliziotto quindi in pochissimi secondi Proyas ti mette in campo diverse sensazioni è un film agrodolce il Corvo e ci riesce benissimo perché c'è la violenza estrema c'è la tragedia c'è un po' di calore umano che viene offerto da questo poliziotto e c'è anche il racconto di questi due ragazzi morti non sono soltanto due ragazzi che se la spassano che stanno scopando sono due ragazzi che comunque hanno un cuore buono perché prendono questa ragazzina che è una ragazzina che vive per strada perché sua madre è allo sbando e in qualche modo la adottano sono amici di una ragazzina quindi guardate quanti elementi distintivi di questi personaggi come questa città viene tratteggiata in pochissimi minuti cazzo in pochissimi minuti ti dicono ok c'è ancora gente buona dal cuore buono c'è questo poliziotto che non ne può più di tutte queste porcate e si prende lui carico di sta bambina perché i buoni devono fare qualcosa c'è ancora speranza ma c'è pure la notte del diavolo ci sono questi bastard quanto ci ha messo quanto ci mette Proyas a delineare tutta la situazione non solo narrativa ma anche emotiva di questa storia di questo posto non ci mette un cazzo e lo fa bene quanto ci mette invece Sanders a descriverci questi due protagonisti 45 minuti voi direte vabbè ci ha messo 45 minuti però Sanders ce li ha raccontati meglio no è quello il problema è quello il grosso macello che hanno fatto con questo film 45 minuti del protagonista sappiamo che da piccolo gli è morto un cavallo lunghissimi flashback di lui con sto cavallo che gli toglie il filo spinato di dosso si insanguina tutta la mano poi abbiamo la protagonista femminile Shelly che sostanzialmente capiamo che è invischiata in uno strano giro in cui lei e i suoi amici sono presi di mira da dei cattivoni viene spiegato tutto malissimo io all'inizio non ho capito un cazzo c'è questa qua che fa no mi hanno mandato un video sul telefono te lo mando però stanno arrivando e Shelly fa vengo anch'io no tu no poi sbatte contro un agente di polizia vedono che nella borsetta ha degli stupefacenti la arrestano la mandano in questo istituto dove si incontra con Eric col protagonista che probabilmente è finito in quell'istituto perché gli hanno ammazzato il cavallo perché il cavallo gli è finito nel filo spinato io non ho capito vi giuro non hanno approfondito un cazzo con il quintuplo del tempo non hanno approfondito un cazzo e poi questi due si innamorano e il loro amore è una delle cose più pallose della storia del cinema sono due personaggi veramente insostenibili insopportabili entrambi si comportano come un dodicennemo entrambi hanno questa questa poetica disfattista questa roba è bruttissima la scena in cui lei fa vedere il tatuaggio che c'ha dove ci sono due maschere una che ride una che piange e c'è scritto prima ridi poi piangi e lui capito rilancia fa no per me la vita è più prima piangi e poi piangi capito come fastidiosi c'è una scena in cui questi due si ritrovano su un ponte quando il loro rapporto amoroso sta già galoppando questi scopano di continuo si ubriacano si drogano scopano si ubriacano si drogano poi si baciano teneramente e poi si ingroppano insieme a un mulo da tiro così e poi al tramonto così no quanto stiamo beh vorrei che durasse per sempre sta cosa e poi via con un macaco infilato nel culo cioè sono sia quelli che si fanno di coca e si strappano la pelle del petto soltanto perché la sborra sui muscoli è più bella da sentire e poi sono quelli che si mettono lì fanno le poesiole scrivono le canzoni c'è lui capito che ci ha tatuato le cose più devastanti addosso c'ha dei tatuaggi ovunque sui lobby dell'orecchio c'ha un necroci il 666 rovesciato sul collo c'ha dei tatuaggi completamente a cazzo che passato ha avuto questo è stato è stato in galera e il suo compagno dice a ella invece di stuprarlo gli faceva i tatuaggi mentre dormiva non si sa che passato c'ha avuto questo qui però sta di fatto che da uno così io non mi aspetto che scrive le canzoncine c'è lui capito che scrive le canzoncine e lei fa oh che belle canzoni ma sono canzoni o sono poesie lui fa no sono stronzate che scrivo ma che e c'è la scena in cui questi cantano lei canta così sfattissima sul divano perché non si ha mai mostrare un po' di gioia per la vita solo quando si scopa quando si scopa questi due esplodono di vitalità per tutto il resto della giornata stanno le fanno la vita è una merda e lei c'è questa che canta col microfono annoiatissima è lui che fa sta roba al piano ma io mi aspettavo che lui come minimo si desse alla dubstep alla trap c'è lui con quei tatuaggi con quel passato ragazzi è morto un cavallo con quel passato lui si mette lì suona questi accordini proprio che ma neanche l'Ene Marlin fa delle robe così perché che cazzo di personaggi sono chi sono questi personaggi io non capisco c'è questa scena dove ci sono loro sul ponte lei guarda giù e fa ma se mi butto poi ti butti anche tu lui fa è come no certo e mi butto la vita è una merda cioè lui Eric Draven mi stava molto simpatico nel corvo del 1994 avevamo un sacco di punti in comune lui era un rocker ok però mi dava proprio l'idea di un bravo ragazzo un bravo ragazzo un musicista con una bella fidanzata che amava con un ideale con un minimo di idea della sua vita sta ragazzina c'ha bisogno diamole una mano che bello che è Eric Draven che bello gli vuoi bene da subito Eric Draven di questo film qui lo prenderei a schiaffi con la cotica del prosciutto quanto mi sta sui coglioni lo odio e questa storia qui di questi due che tubano e scopano di continuo come Mandrilli dura 45 minuti tu non puoi farmi durare questa cosa 45 minuti soprattutto in un film come Il Corvo dove tecnicamente la trama dovrebbe essere gli accoppano la fidanzata lo accoppano lui si vendica di tutti fine del film questo è Il Corvo ma se al 45esimo minuto a me sembra di guardare ancora un soft porn per depressi io non so che cazzo dirvi e questo è il più grande problema secondo me del film il fatto che non parte mai problema numero 2 quando finalmente il film parte con la vendetta di Eric parte in maniera troppo blanda allora quando lui viene ucciso finisce in una sorta di limbo una sorta di limbo in cui c'è questa specie di senza tetto che gli fa un po' da guida gli spiega come funziona gli dice no tu sei in un limbo perché la tua anima ha subito un torto no e adesso tu puoi tornare in vita più o meno perché così puoi correggere tutto quello che è stato sbagliato nel film del 94 questa informazione ti viene passata mentre c'è una bella veduta aerea di questa città massacrata c'è la voce della ragazzina del film che dice questa cosa la leggenda del corvo che porta la tua anima indietro sulla terra perché l'anima è stata strappata troppo violentemente dal corpo e allora c'è questa roba qui questa leggenda poi viene rinforzata in qualche modo dal braccio destro del villain che è questa tipa mistica che sembra faccia stregoneria quindi non è che c'è bisogno di contestualizzare così tanto ti danno queste informazioni succede basta lui torna in vita si vendica c'è il corvo che lo segue lui torna in vita capisci quello che succede perché te lo dicono all'inizio tra l'altro mentre vedi questa città è bellissima quella sequenza non la vedi come uno spiegone la vedi più come un intro al film qui invece vedi proprio come uno spiegone c'è proprio il personaggio che spiega funziona un millesimo rispetto al film del 94 in cui tutto era poetico in cui tutto era magico era misterioso qui c'è questo che fa lo spiegone per l'amor del cielo a parte questo quando lui torna in vita e inizia ad ammazzare i responsabili della morte di Shelley tu non provi nessuna soddisfazione nessuna perché perché la morte di Shelley del film del 94 ti viene mostrata con dei brevi flash ma l'attrice è talmente espressiva nel rimandarti indietro sofferenza il montaggio è giusto è cattivo è tagliente le facce dei suoi aguzzini sono veramente da figli di puttana non vedi quasi nulla dello stupro ok vedi soltanto il volto di questa ragazza che soffre è questi tizi a turno su di lei che la maltrattano e ti si stringe il cuore basta poco ti si stringe il cuore ok soprattutto perché sai che è una brava ragazza soprattutto perché sai che non è parte di quel marcio di città è la parte buona della città lei no insieme ad Eric insieme a questo poliziotto insieme a quella bambina mentre in questo film qui quando Shelley e Eric vengono uccisi la brutalità è ridotta al minimo a parte che qui il cattivo non è un criminale come nel film del 94 un uomo di potere ma comunque sia che si sporca le mani è un violento anche lui a modo suo meno dei suoi sottoposti che sono bestiali ma comunque lui ti dà l'idea di un tizio pericoloso questo invece è un coglione che ha fatto un patto col diavolo e praticamente si è guadagnato la vita eterna a costo di mandare anime innocenti all'inferno però anche qui lui non risulta così efferato perché quello che fa è sussurrare nelle orecchie di questi innocenti che poi si accoltellano o si buttano giù dal balcone cioè quindi li ammazza per procura li ammazza per procura poi per procura li fa soffrire lo spettatore non percepisce la brutalità dello stupro di Shelley nel film del 94 lì sì che li vuoi vedere tutti morti ma qui c'è proprio c'è un passaggio di troppo tra l'altro Eric Shelley muoiono in maniera ancora più stronza di questi innocenti che vengono sacrificati all'inferno gli mettono un sacchetto di plastica in testa che visti i loro trascorsi sessuali nella parte iniziale del video io mi aspettavo pure che Eric venisse un durello così a farsi mettere un sacchetto in testa vengono soffocati vengono soffocati con un sacchetto non riesci a provare l'odio giusto per i carnefici anche perché c'è da dire una cosa che è importantissima ma che questi probabilmente hanno completamente dimenticato i cattivi sono importantissimi importantissimi nel film del 94 tu ogni cattivo te lo ricordavi perfettamente perché ognuno di loro aveva una caratteristica specifica Skank T-Bird Tintin Tintin era quello con i coltelli probabilmente aveva torturato Shelly a coltellate mentre la stuprava T-Bird è uno fissato con le macchine un tizio estremo sempre drogato Skank è un coglione trascurato senza denti il più stupido del gruppo ma bestiale anche perché idiota in quel modo cioè te ritratteggiavano questi cattivi e quando li vedevi uccidere sentivi proprio un senso di ok cazzo fuori uno l'hanno accoppato questo qui Eric ammazza gente ma non hanno un carattere non hanno una personalità sono dei manichini a proposito dei manichini all'inizio del film ti fanno vedere che Eric e Shelly scappano da questa casa di cura dove si conoscono scappano vivono la loro storia d'amore prima vanno a casa di un amico di Shelly gliela massacrano gli spruzzano lo spumante sulle pareti gli cagano a terra scopano sui vasi cioè fanno di tu veramente gli massacrano a casa a me veniva l'ansia guardare quelle scene vi giuro dopodiché vanno a vivere in un posto che sembrerebbe abusivo in mezzo a dei manichini coperti dal cellophane cos'è? che cazzo di posto è? come fanno a trovarli poi lì? chi cazzo penserebbe mai che stai nel magazzino della Benetton a vivere? ragazzi vi giuro qualsiasi cosa mi viene in mente di questo film non c'ha senso qualsiasi cosa ma torniamo a noi le scene d'azione sono estremamente confusionarie estremamente veloci estremamente cinetiche ma mancano tantissimo d'impatto proprio non non sembrano violente c'è un sacco di sangue sangue fatto in si gira per tutto ma la violenza non si sente nel primo film sarà pure per l'atmosfera molto più cupa e molto più più pesante di tutto il film anche una sola coltellata l'avvertivi qui l'unica cosa che io ho trovato un po' più trucida rispetto al primo film quindi un po' più impattante è il modo in cui eric si rigenera dopo aver preso danno nel primo film si vede questa scena abbastanza iconica di lui che mostra la mano bucata che che si richiude al nemico per fargli capire che lui non può morire e poi si cacca sotto qui invece lui che si ricompone è un po' più fisico si vede quasi come se la pelle si ricucisse da sola l'effetto è proprio quello della pelle che si ricuce con lui che si spinge l'intestino nella pancia che gli fa male diciamo che questa cosa forse è l'unica cosa che ho apprezzato rispetto al film del 94 anche perché nel 94 non la potevano fare sta roba adesso con la CGI possono fare un sacco di roba in più però resta il fatto che al di là di quello che è lo splatter diciamo sto budellame ste ossa rotte ste gambe rotte di eric che se le va a rimettere in posizione con le mazzate proprio al di là di tutto questo il film è blandissimo quasi disney neanche il finale funziona cioè nel finale praticamente succede che nonostante eric sia stato anche avvisato dal barbone spiegone che c'è nel limbo che ha a che fare con questa entità malefica no che tutto corrompe e che lui deve cercare di eliminare vede il filmato quel filmato famoso dell'inizio che tutto tutto genera poi questo filmato che scegli riceve dall'amica o il filmato è semplicemente scegli che sta al piano a un certo punto arriva il cattivone le sussurra nell'orecchio come fa sempre lui e lei va ad uccidere una persona questo è il filmato siccome eric trova questo filmato perde l'amore per scegli perché gli viene detto che fin tanto che lui amerà in maniera pura e incondizionata la sua scegli allora lui sarà immortale e potrà provvedere a vendicarla nel momento in cui il suo amore verrà a meno perderà i suoi poteri e non potrà più farci affidamento ecco a lui basta vedere lei che chiaramente non agisce per sua volontà perché questo le sussurra all'orecchio e poi le va a uccidere a lui basta questo per dire non sono più innamorato perché lei ha ucciso una persona ma come te l'hanno detto che hai a che fare con un figlio di puttana sovrannaturale la stessa scegli ti ha detto guarda che io ho fatto delle cose orribili ecco però forse possiamo spezzare una lancia a favore di eric scegli non gli dice le cose come stanno torniamo sempre al solito discorso io tutte le volte che vedo questa roba in sceneggiatura ve la faccio notare il solito lui è qui non si dice lui è qui non si dice così lui è qui si dice il mostro tal dei tali l'ho visto in cantina ci sta venendo a prendere scappiamo non si dice lui è qui perché sennò ti prendono ti mettono a letto e ti fanno calmati calmati adesso calmati calma non devi dire lui è qui così come non devi dire ho fatto cose orribili devi dire c'è questo tizio pericolosissimo che se ti parla nelle orecchie ti costringe a fare cose orribili così eric guardando il filmato si sarebbe reso tranquillamente conto della situazione invece così era pure un po' ambigua ma lei ha detto lui è qui lui è qui e quindi tutto il film tutte le meccaniche del film vanno avanti perché la sceneggiatura è scritta male cioè eric perde i suoi poteri perché la sceneggiatura è scritta male perché questi personaggi non parlano come esseri umani e quindi alla fine eric è costretto a fare una sorta di contropatto da quel che ho capito il contropatto è vabbè io adesso salvo shelly però io poi muoio io scambio diciamo i nostri posti io me ne vado all'inferno ma salvo lei e quando lei si sveglia invece di esserci un normale infermiere c'è il barbone spiegone che le fa eh beh il tuo fidanzato si è dato da fare per te ha combattuto per te facendoci capire che lei in qualche modo è stata teletrasportata fuori dalla bara perché ormai doveva stare dentro una bara sta ragazza è arrivata su un lettino forse tornando indietro nel tempo però eric è comunque morto e ha fatto quello che doveva fare è tornata indietro nel tempo mantenendo però le le raga non lo so non so che cazzo di finale ho visto non ne ho la più pallida idea ma sta di fatto che questo film non azzecca niente detto questo non è peggio di morbius non è peggio di the marvels non è peggio di wakanda forever non riesce a essere peggio di questi film ma è comunque una merda ed è una merda soprattutto perché non solo non è buono come il film del 94 ma non riesce neanche ad imparare dal film del 94 io non dico che tu devi fare meglio di quello ma almeno guardarlo con attenzione capire perché è diventato un cult e agire di conseguenza perché secondo me Sanders si è fatto un po' prendere la mano dal fatto che il film del 94 avesse come traino la morte di Brandon Lee forse tutti quanti sono convinti che l'unico merito di quel film fosse la morte di Brandon Lee ma io vedo pure un sacco di gente che è convinta di sta cosa ma quello è il corvo quello è il corvo perché Brandon Lee è morto no raga il corvo ha degli ottimi incastri narrativi il corvo ha delle ottime intuizioni il corvo racconta le cose con il giusto peso facendo attenzione a quelle 4-5 cosine che lo rendono un film che funziona bene ripeto non sto a di che in una scuola di cinema il primo giorno fa i ragazzi oggi vi insegneremo l'arte del cinema e inizieremo da il corvo no chiaramente no non funziona così ma se è diventato un cult non è solo perché è un attore schiattato e se questa è una merda non è solo perché non somiglia al film del 94 ma perché non ha capito niente del perché è diventato un cult sì quindi non